Ciao a tutti, diavoletti! Vi chiederete perché, Anto, sei vestito così oggi? Oggi sono vestito così perché mi sento molto cattivo! Sì, mi sento molto cattivo! Lì ci sono Vinci e la mamma di Vinci e io adesso sto per fare qualcosa di brutto! No! Non voglio bullizzare la mamma di Vinci e Vinci, non si fa! Il bullismo è sbagliato! Voglio? Voglio? Diavoletti, guardate! Questo è il nostro premio di YouTube! Eh sì, il premio dei 100.000 iscritti, guardate! 100.000 iscritti! E adesso io romperò questo premio fra 3, 2, 1... No! Io romperò questo premio solo se Vinci perderà tutte le sfide che io lancerò! Eh sì, adesso lancerò delle sfide a Vinci e la mamma di Vinci e se loro perderanno io romperò il nostro premio di YouTube! Lo farò in mille pezzi! Ok! Vinci, mamma di Vinci, venite qui! Vinci, mamma di Vinci! Ma perché avete questi cappelli di Halloween? Adesso si sta andando Halloween, non ti piacciono, sono così carini! Ti ricordo che Halloween non è adesso, è fra 20 giorni! No! Non potete indossare questi cappelli! E io adesso vi devo dire una cosa importantissima! Io non voglio ascoltarti! Non vuoi ascoltarmi? Non vuoi ascoltarmi? Hai tolto i nostri cappelli di Halloween e non si fa! Ok, Vinci, oggi io mi sento molto cattivo, quindi guarda cosa sto per fare! Vieni con me, Vinci, vieni! Cosa stai per fare? Vinci, guarda qui! Qui c'è il nostro premio di YouTube! Noi ci teniamo tanto a questo premio e io adesso lo romperò in mille pezzi! No! Perché no? Come puoi rompere il nostro premio di YouTube? Ma sei per caso impazzito? Non farlo! Non devo farlo? Allora, preparatevi! Preparatevi, belli miei! Preparatevi che adesso dovete fare una challenge! Una challenge? Sì, una grande challenge! Ok, sbrighiamoci! Allora, 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 allora! Mi senti? Mi senti? Ok, aprite bene le orecchie perché sto per fare qualcosa di super epico che non avete mai fatto in vita vostra! Ok, arriva il punto! Allora, adesso voi dovete fare una sfida, quindi sarai tu contro tua mamma! Ok, vincerò io mamma! No, io! Grande certa! Ma prima di iniziare questo gioco vogliamo scrivere qualcuno sul nostro premio di YouTube! E oggi scriveremo, scriveremo Viola! Ciao Viola! Viola Game 1! Ciao Viola! E se volete essere iscritti anche voi sul nostro premio di YouTube, lasciate un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e commentate qui sotto con fatto! Ok, secondo voi chi vincerà? Vinci o la mamma di Vinci? Io! 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 Basta litigare! Basta! Lo sono tutti, anche i diavoletti mi conoscono, quindi sanno che sarò io a vincerà! Team mamma di Vinci o team Vinci? Commentate qui sotto siete team Vinci o team mamma di Vinci? Io team Vinci... Oh ma niente! Adesso diavoletti iniziano le sfide e sapete cosa succede se perderete? Io romperò il premio di YouTube! No! Non devi farlo! Io romperò il premio di YouTube se voi perderete! Quindi? Vinci dai! Ok, sbrighiamoci! Iniziate la prima sfida! Ok, qual è la prima sfida? Perché di certo non perderò queste sfide, tu non romperai il nostro premio di YouTube! Ok! Oggi io sono il Game Master, quello principale! E dirò tutte le sfide che voi dovrete fare! Arriva il punto! La prima sfida qual è? Aspetta, non l'ho presa! Devo andare a prendere la prima sfida! Ok! Che cosa sarà? Non lo so, ma di certo vincerò io! Chissà quale sarà la prima sfida! Eccovi, eccovi! È inutile che parlate! I nemici non devono parlare franti loro! Infatti stavo dicendo che sarò io a vincere! Vinci! Stavo per cadere in piscina! Stavo per cadere in piscina? Non mi sento molto bene, fa caldo oggi! Fa caldo? Sì! Invece si sta molto bene! Ok, ma io sono qui ad aspettare la prima sfida per vincerla, quindi... Allora! Allora ascoltatemi tutti! Aprite bene le orecchie! Questa è la prima sfida! Perché gridi? Allora, diavoletti, questa è la prima sfida! Posizioniamo questo qui! Questo è l'anello della mamma di Vinci! Che devo fare? Prendilo! Prendilo! Ok, dammi il mio anello! Questo è il tuo anello! Sapete perché, diavoletti? Perché il verde è il colore preferito di Vinci! Sì, tutto molto carino, ma devo vincere questa sfida! È il rosso, è il colore preferito della mamma di Vinci! Ok! Allora, io ho posizionato questo coso qui! E' il primo, il primo che riesce a lanciare l'anello proprio qui dentro! Vincerà? Sì! Ok! Vai! Inizia tu? Aspetta, aspetta! Devo riprendervi! Diavoletti! Chi sarà il primo a lanciare l'anello qui dentro? Vai, inizia tu mamma di Vinci! No! Non ce l'hai fatta! Ok, Vinci, vai tu adesso! Tocca a me, diavoletti, guardate! Vai, Vinci, vai! Tifo per te! Per poco! Quasi! No! Non ce l'hai fatta! Diavoletti? Tocca a me! Chissà chi vincerà! Diavoletti, siete pronti? Datemi tutto il supporto di questo mondo perché devo farcela! Vinci, sempre per poco, sempre per poco! Diavoletti, voi per chi ti fate? Per la mamma di Vinci o per Vinci? Ma adesso tocca a me, a te! Per poco! Anch'io! Vai! Vinci, Vinci! Ma siete una schiappa a questo gioco? Per poco! Vai, Vinci, vai! Ce la puoi fare, vai! Vinci, 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 Vinci! Vai, Vinci, vai! Oh! Oh, per poco! C'ero quasi, questa volta c'era veramente quasi! Questa volta stava per entrare questa dell'unico! Vai, muoviti! Giuse, vai! Vai! Cosa? Diavoletti! Ma come ha fatto? Ha lanciato proprio l'anello? Qui dentro? Guardate! L'anello rosso della mamma di Vinci è qui dentro! Sono triste! Uh! Ok! Quindi, Diavoletti, il punteggio è 1 a 0 per la mamma di Vinci! Stai vincendo tu? Sei felice? Sì! Ok, di qualcosa! Sono felice! Ringrazio Diavoletti che ti hanno fatto vincere! Grazie, Diavoletti! Sì, 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 sì! Ma è stata solamente fortunata! Perché di certo non vincerà la prossima sfida! Stati a guardare! Ok! Volete sapere qual è la seconda sfida? Il vostro Game Master! Il vostro Game Master vi dirà la seconda sfida! Siete pronti? Sì! Vedi subito la seconda sfida perché sono qui pronto per vincerla! Ok! Io non penso proprio Vinci, sei una schiappa! Sei una schiappa! Sei una schiappa! Ma Diavoletti, sapete come si dice? L'ultimo sarà sempre il primo! Quindi può essere che Vinci supererà sua mamma? Non si sa mai? La seconda sfida! Ok, vado a prendere la seconda sfida! Nel frattempo che vado a prendere la seconda sfida, voi non parlate perché siete nemici! Io non voglio parlare per niente! Ok! La seconda sfida, la seconda sfida è... Siamo tutti ricchi! Allora, la seconda sfida è... E? Volete saperla? Volete saperla? Urlate! Urlate che volete sapere la seconda sfida! Sì! Ok, la seconda sfida è... Diavoletti, io ho nascosto quattro lettere per tutta la villa! Eh sì, ho nascosto quattro lettere e queste quattro lettere sono A, N, T, O, Anto! E chi troverà le lettere e le unirà per primo vincerà! Ok, ci sto! Vado? Ok, seguo la mamma di Vinci, vediamo se trova le lettere! Cerca bene, cerca bene! Vinci sta cercando, hai trovato qualcosa? No, ancora nulla! Cerca bene! Hai trovato qualcosa? No! Nessuna lettera? Ok, vado da Vinci! Cerca difficile! Vi dico un indizio, vi dico un indizio! Sì! Controllate bene l'azzurro! Vinite! No, non vedo niente! Forse dovrei tuffarmi! Forse dovrei tuffarmi! Vinci, non vedi nulla! No, adesso mi tuffo! No, non ci penso nemmeno! L'acqua è congelata! Aspettate! Vinci, hai visto qualcosa? Cosa? Hai trovato! Ha trovato la lettera T! Ha trovato la lettera T! Sei in svantaggio! Diavoletti! Vinci ha trovato la lettera T! Ok, Vinci hai trovato la lettera T! Ce l'ho fatta! Ti mancano tre lettere! Ti mancano tre lettere! Vai! A-N-O Sì, vai! Ok, seguiamo la mamma di Vinci! Vediamo se trova qualcosa! Ehm... Giuse, hai trovato qualcosa? No! Prova a scavare! Prova a scavare! Vieni! Dove? Qui! Ti do un indizio! Prova a scavare! Ma quale indizio? Vai! Magari trovi una lettera sotto il terreno! Vedi una lettera? No! Ci sono solo sassolini! No! Mi dispiace, Vinci ha già trovato... Grazie! Che c'è, Vinci? Vieni qui! Cosa hai trovato? Venite! La lettera N è proprio qui nascosta e guarda caso l'ho vista! Oh! Era proprio qui! Ok, hai trovato due lettere! Tua mamma zero! Sì, sei molto bravo a cercare le cose! Ok, quindi mi manca la A! Niente! Io non trovo niente! Non trovi niente? E continua a cercare molto bene! Vai! Controlla qui! Dove? Ok, diavoletti! Vinci ha trovato la seconda lettera! Adesso mancano due lettere! Vinci cerca bene! Cerca bene! Giuse, puoi ancora farcela! Dove sta andando? C'è qualcosa qui sotto? No, mi dai un indizio? No, non posso darti un indizio, mi dispiace! Ok! Non posso aiutarti! Allora dobbiamo cercare le lettere! No, Vinci, non c'è nulla sull'albero! Ok, Vinci! Aspettate! Che c'è? Non ci posso credere! Sotto il cuscino c'era una lettera, sì! Che lettera è? La lettera... Ah! Ok, Vinci! Hai trovato la lettera A sotto il cuscino! Ok, adesso mi manca la lettera O! Sì, ti manca l'ultima lettera! Ti manca l'ultima lettera! Dove devo cercare? Dammi un indizio! Ah! Troverò la lettera O, tranquilli! Dove devo cercare? Almeno mi dai un indizio! Ok, manca la lettera O! Manca la lettera O! Manca! Che c'è, Vinci? Vieni subito qui! Hai visto qualcosa? Che c'è? Guarda! Vinci! Tadà! Eh sì! L'ultima lettera era nascosta sotto questo lettino! E io l'ho trovata! Ok! Complimenti! Hai trovato! Hai trovato l'ultima lettera! Hai completato il mio nome! Anto! Il punteggio adesso è... Uno a uno! Ok, diavoletti! Adesso i giocatori sono uno a uno! Secondo voi chi vincerà questa partita? Questa partita finirà al punteggio numero tre! Io sto aspettando la tua terza sfida! Ok! Volete sapere qual è la terza sfida? Sì! Molto strano! Quindi sbrigati! La terza sfida qual è? Ok! Aspettatemi! Aspettatemi qui! Adesso vado a prendere la terza sfida! Ok! Sbrigati! Diavoletti! Adesso prima della terza sfida voglio fare uno scherzo! Ah! Vinci è la mamma di Vinci! Sì! Si meritano proprio un grande scherzo! Guardate cosa ho qui! Guardate cosa ho qui! Una maschera! E questa maschera farà spaventare Vinci e la mamma di Vinci! Ah! È una maschera molto spaventosa! Molto spaventosa! Adesso la indosserò! E Vinci e la mamma di Vinci si spaventeranno tantissimo! Shhh! Questo scherzo sarà epico, diavoletti! Commentate qui sotto con un cuore rosso se avete ansia di questo scherzo! Chissà quale sarà la loro reazione! Sto facendo una cosa sbagliata? Vinci potrebbe svenire? Oppure la mamma di Vinci potrebbe svenire? O no? Come sto, diavoletti? Sono spaventoso? Ah! Ok! Andiamo subito da Vinci e dalla tappa di Vinci! Chissà quale sarà la terza sfida, secondo te? Chi lo sa? Ah! 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 Questo scherzo è riuscito, vero? Da vedi nascosto la telecamera proprio qui! Uno scherzo di pessimo gusto, lo sai? Vinci, ti è piaciuto questo scherzo? No! Stavo per svenire! Stavi per svenire? Sì! È stato uno scherzo di pessimo gusto! Dammi questa maschera! Volete sapere qual è la terza sfida? Oh! Oh! Maschera! Povera maschera! Perché l'ha lanciata in quel modo? Perché è stato uno scherzo di pessimo gusto! Adesso io sono il game master! Io sono il game master! Eh? Vi devo dire quale è la... Game master che adesso finirà in piscina? No, no, no! Vinci, non lanciarmi in piscina! Dai, perché? Sarebbe divertente! Ok, Vinci! Adesso vi dico qual è la terza sfida! Aspettatemi lì, sedetevi, dai! Non arrivi mica con un altro scherzo di pessimo gusto e un'altra maschera veramente terrificante! Forse! Ok, diavoletti! Andiamo a prendere la terza sfida! Chissà quale sarà la terza sfida! È stato uno scherzo di pessimo gusto, non credi? Sì, non mi sento molto bene, però... Perché non ti senti bene? Ehi! È inutile continuare a parlare! Ok, sei arrivato con la terza sfida! Sì, questa sfida è veramente difficile! Siete sicuri di voler continuare questo gioco? Niente difficile per me! Sì! Siamo pronti! Ok, venite qui! Nel parco giochi? Vieni, mamma! È così divertente! Adesso posso divertirmi sulla mia altalena! Vinci, non puoi metterti sull'altalena! Vai lì! Allora, diavoletti! Questa è la terza sfida! Io sono il game master che controlla questo gioco! Ok! Quindi, allora! Adesso posiziono questo coso qui! Che cos'è? E qui ci sono due anelli! Li vedete questi due anelli? Sì! Sì, sono veramente bellissimi! Tu li vedi? Sì! Li vedi bene? Sì! Ok! Siete pronti? Sì! Allora, adesso do un anello a Vinci! Ok! È un anello alla mamma di Vinci! Diavoletti! Chi farà più punteggio vincerà? Sì! Perché guardate! Qui ci sono tanti punteggi! 20, 10, 50, 10, 5! E chi farà più punteggio vincerà? Siete pronti? Sì! Prontissimi? Prontissimi! Pronti, pronti, pronti! Almeno io sono pronto! Ok! Dammi la telecamera! Dammi la telecamera! Io mi metto proprio sull'altalena! Quello doveva essere il mio posto! Vinci! Ok! Guardo lo spettacolo sull'altalena! Ok! Vai! Iniziate! Sbagliato! Niente! Diavoletti! Sono una schiappa! Niente! Ok! Adesso tocca a me! E questo anello entrerà in qualche... Muoviti! Vai! Ok! La mamma di Vinci ha fatto il suo punteggio! 25! Il suo punteggio è... 25! Oh! Molto scarso! Molto scarso! Ok! Togliti! Ok! Vinci! Adesso tocca a te! Quale sarà il tuo punteggio? 50! Speriamo! Ok! Vinci! Hai gli ultimi due tentativi! Se no perdi! Non cantare vittoria! Hai gli ultimi tentativi! Se no perdi! Gli ultimi due! Gli ultimi due? Sì! Vinci! Stai perdendo! Stai perdendo! No! Ho un altro tentativo! E questa volta non fallirò! L'ultimo tentativo! L'ultimo! Non fallirò! Vinci! Hai fallito! Mi dispiace! Hai perso! Non c'è niente da ridere! Tua mamma ha fatto il punteggio 25! Adesso il punteggio di tutto il gioco è... 2 a 1! Non è mai troppo tardi per riprendersi! Quindi diavoletti! Crediamoci insieme! Chi è team mamma di Vinci? Perché la mamma di Vinci sta spaccando in questa sfida! No! Tua mamma sta vincendo! Tua mamma sta vincendo! Basta! Io recupererò tutto! Eh? Io recupererò tutto! Ok! Adesso vi dico qual è l'altra sfida! Qual è? La prossima sfida? Sì! Sì! Certo che sì! Sì! Ok! Il primo che ride perde! Guardatemi! È il primo che ride perde! Sì! La mamma di Vinci! Quindi venite qui! Venite qui i giocatori! Venite qui a due! Oh Vinci! Teggio eh! 2 a 2! In pareggio! Ok! Adesso che siete 2 a 2! Sapete che sta per arrivare un momento molto difficile! Quello più cruciale! Quello più ansioso! Questa volta sarà l'ultima sfida! L'ultima sfida! Quella decisiva! Volete sapere qual è? Siete tutti orecchie? Sì! Chi vincerà sarà il vincitore di questo gioco! Parlano da soli! Parlano da soli! Volete sapere qual è l'ultima sfida? Sì! Innanzitutto! Questa sfida sarà molto difficile! Ve l'assicuro! Moltissimo difficile! Moltissimo! Ma dov'è Vinci? Diavoletti? Fino ad un secondo fa Vinci era qui? È molto strano! Il set al Game Master! Ma da dove è uscita quest'acqua? Basta! Basta! Mi sono fatto lo shampoo! Cioè, credevi di passarla liscia? Sei il Game Master ma questo non è un'unica sfida! Ho tutta l'acqua sulla testa! Passiamo alla quarta sfida! Ti odio! Spero che perderai! Spero che perderai! Non sei più tu! Qui c'è una palla! E cosa dobbiamo fare con questa palla? Giussi ma perché sei laggiù? Vieni qui! No! Non dovete giocare! Prendete la palla! Venite qui! Venite qui! Chi farà più gol vince! Eh sì! Chi farà più gol vincerà! Venite qui! Venite qui! Vinci! Qui abbiamo una pallina! E in questo gioco avete tre tentativi a testa, cioè potete fare tre tiri! Vai Giussi! Hai fatto il primo gol! Ok! La mamma di Vinci ha già fatto un gol! Dai! Vediamo! Ma qual è un altro? Dove la lanci? Diavoletti! Non ridere tu! Ok! La mamma di Vinci ha fatto un gol! E adesso? L'ultimo tentativo! Dai muoviti! Ma dove la lanci? Ok! Hai fatto solo un gol! No no non puoi non puoi! I tentativi sono terminati mi dispiace! Tu hai fatto solo un gol! Siete pronti? Secondo me vincerà Vinci! Lo spero! Vai! Hai fatto il primo gol! Ora ti supera secondo me! Troppo lento però! Ti supera? Sì! Ah! 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 Me l'ha lanciata sul piede! Ok diavoletti! Secondo tentativo fallito! Il terzo tentativo sarà quello decisivo che mi farà vincere! Speriamo! Terzo tentativo! L'ultimo! Hai fatto il secondo gol! Ce l'hai fatto! Quindi la persona che ha vinto questo gioco è... Vinci! Perso! Hai perso sì! Mi dispiace per te! Ma aspettate! Aspettate! Io sono il Game Master quindi posso decidere come va il gioco? E quindi come andrà il gioco? Vinci! Voglio fare un'ultima sfida! Ok! L'ultima? Sì! Una sfida sorpresa! Una sfida sorpresa! Venite qui! Ci sto! Allora! Faremo una sfida sorpresa! Una sfida che non doveva essere fatta! Ma adesso la faremo perché mi dispiace molto per la mamma di Vinci che ha perso! Lo stai facendo perché ti ho fatto quello scherzo! Non è così? Ok! Diavoletti! L'ultima sfida è... È? Giocare a tennis! Giocare a tennis! Giocare a tennis! Che bello! E il primo che fa cadere la palla perde! Ci sto! Ok! La palla è qui! Le racchette sono qui! Ok! Chi fa cadere la palla per primo perde! Sarai tu a far cadere la palla! Tu! No! Stai a guardare! Però io! Chi farà cadere la palla? Diavoletti! Chi farà cadere la palla secondo voi? Cosa è successo? Guarda Vinci! Ha fatto cadere la racchetta! Ha fatto cadere la racchetta! La pallina non l'ha presa! Mamma ci sei? Giussi! Mi senti? Giussi! Apri gli occhi! Vinci! Dobbiamo chiamare il pronto soccorso! Sì! Immediatamente! Dobbiamo chiamare il pronto soccorso! Tua mamma è proprio lì! A terra! Ma cos'è stato? Non lo so cos'è stato Vinci! All'improvviso la mamma di Vinci è svenuta! Oh no! Aiuto! Qualcuno ci aiuti! Stava giocando a tennis! Stava giocando a tennis! Ok Vinci! Dobbiamo chiamare l'ambulante! Oh no! Vinci sta andando a prendere il telefono! E adesso chiameremo il pronto soccorso! Ok? Vincere! Vinci! Cos'hai? Di cellulare! Ok! Corri qui! Corri qui! Tua mamma è ancora svenuta! Ok dammi il cellulare! Adesso chiameremo subito l'ambulanza! L'ambulanza? Sì! Dovete correre qui! Dovete correre qui! C'è una persona svenuta qui! Stanno arrivando? Stanno arrivando! Ok molto meglio! Giusey mi dispiace molto! Giusey mi senti? Cosa? Sta arrivando l'ambulanza! Ok stanno arrivando! Eh? Ti senti bene? Mamma? Non tanto bene! Non tanto bene! Giusey! Giusey mi senti? Ti senti bene? Sì! Sta arrivando l'ambulanza! Non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Oh no! Ok Vinci sta arrivando l'ambulanza! Sta arrivando l'ambulanza! Eh sì! Ok Vinci sta arrivando!